di venire oggi perché è il momento giusto per dare una strigliata dal quale capitano in campo, dall'allenatore in campo a tutta la squadra, poi mi sembra particolarmente arrabbiata, prima i nostri giocatori magari vanno in giro a dire che siamo al terzo posto e poi facciamo certi tipi di prestazioni, insomma non sono dichiarazioni solite, lei è particolarmente arrabbiata. Chiediamo noi ai calciatori di media in conferenza stampa tendenzialmente, adesso te lo... Non è che quando ha parlato in precedenza abbia fatto cose... Non è che è stato banale? Non è che ci abbia aiutato? No, comunque ti ripeto che credo che ci sarà una svolta per quello che ho visto e per quello che dice la mia esperienza, perché aver perso a Genova, poi te lo dico sinceramente, è quello che il ritorno a Firenze è veramente stato un funerale, quindi vuol dire che ci rialzeremo, perché comunque abbiamo l'obbligo, abbiamo l'obbligo, abbiamo la rossa, abbiamo i giocatori, abbiamo il gioco per riuscirsi, quindi è un po' quella la mia rabiatura, non è che poi accuso qualcuno solo di essere conseguente, perché poi a me il calcio piace, però mi piace il calcio giocato, parlato poi, sta a voi. Grazie. Grazie. Grazie.